Mamma, ti posso raccontare una barzelletta bellissima? Guarda, Leo, ero qui che guardavo l'ultima puntata dell'ultima serie di Better Call Saul e mi stavo proprio chiedendo... Cosa, mamma? Quanto sarebbe bello che mio figlio adesso mi interrompesse per raccontarmi una barzelletta, perciò dimmi pure, Leo. Uno a un altro ha detto, ricordati di comprare dei capelli. Compra solo dei capelli, ok? Quando è andato, fammeli rizzoli, grazie. Quando è ritornato, due minuti dopo... Ma non ti ho detto di fare i capelli! Ma non mi avevi detto di fare i capelli! No, ti avevo detto di comprare i capelli! Ah!